Buon pomeriggio, scusate questo intervallo tecnico, vi dirò poi un'altra cosa a proposito della tecnica moderna, ma abbiamo il consigliere Leuzzi che si collega e prima di avere stabilito se il collegamento è certo non siamo sicuri che potremo collocarlo al primo ordine come avevamo immaginato. Faccio molti complimenti agli organizzatori del convegno perché vedo che ha avuto molto successo. Faccio i miei complimenti anche al professor Tavilla che mi ha chiamato Luminare, ma vi devo dire che per me è una cosa assolutamente ordinaria. Io quando arrivai a Siena incominciarono a chiamarmi il professor Francobello Illustre e io mi ero molto sostenuto, poi capì che mi chiamava Illustre perché mi chiamava Sidol e siccome ai nostri tempi il Sidol era un grande illuminante per quello. Non so se Elio avesse lo stesso retropensiero quando ho chiamato Luminare, però è possibile. Ricordo anche a proposito degli organizzatori dell'organizzazione che la nostra università si chiama Università di Modena e Reggio Emilia e i convegni si fanno o si sono incominciati a fare a Modena ma è da vent'anni che li facciamo a Reggio Emilia. Quindi mi raccomando la possibilità soprattutto di festeggiare il ventennale perché quest'anno sarà il ventennale. Il 18 ottobre noi avremo un convegno e speriamo che abbia lo stesso successo che sta avendo questo. Detto ciò e immaginando che la tecnica funzioni, per dimostrare però che questa eventuale difficoltà non ci rende, come dire, arretrati, io ho pensato di introdurre un fattore di intelligenza artificiale che ho introdotto l'anno passato a Reggio Emilia, che ha avuto qualche successo dal punto di vista, come dire, organizzativo e dell'efficienza e che replicherei in questa circostanza. È rappresentato da questo strumento di intelligenza artificiale che dura 15 minuti e rappresenta il tempo che ciascuno dei relatori avrà per sviluppare il suo argomento e sarà integrato da questo che ne dura 5 per le conclusioni. Per rispetto ai relatori io l'ho tenuto dietro questo schermo perché altrimenti tutti vedrebbero quanto sfora il relatore rispetto allo strumento di intelligenza artificiale. Questo non è stato necessario per i precedenti che si sono attenuti ai tempi loro attribuiti, anche, devo dire, con risultati espositivi e interpretativi molto apprezzabili. Molto apprezzabili, dirò soltanto due cose, condivido con il Presidente Bozza la considerazione che qui non siamo di fronte soltanto a misure cautelari o protettive, quando parliamo di composizione negoziata, ma anche a misure, come dire, impositive. Perché quando si dispone che i contratti pendenti continuano, nonostante che il debitore non abbia pagato, è un'imposizione che giustamente ha detto il Presidente Bozza a un grosso peso specifico di carattere giuridico e di carattere economico. Se pensiamo, come io penso quasi sempre nella mia vita, alle banche, non pensate che sia accettabile l'idea di dovere dare soldi per forza. Noi modenesi sappiamo che al di fuori dell'autostrada, al casello di Modena Nord, c'è un albergo che è incompiuto da vent'anni. Immaginate che in una passatura di queste si dovesse continuare a finanziare gli stati di avanzamento lavori, nonostante che si sappia che quell'albergo non verrà abitato mai. Oppure immaginate che mentre lo si porta su, chiudono il casello di Modena Nord perché è trattato al casello di Modena Sud. E la gente, secondo voi, esce a Modena Nord per andare in quell'albergo lì? O esce a Modena Sud dove c'è l'albergo? Allora, l'idea di utilizzare oltre che delle misure protettive, oltre misure cautelari, anche delle misure impositive, è un'idea che è molto forte. Salvo che non vi sia, scusate se faccio un commento, ma anche per legare un po' gli interventi di questa giornata, salvo che non vi sia un, come dire, retropensiero, che io mi augurerei, ma che per la verità non ho ancora accolto, che sia qual è l'effetto secondario di una imposizione. L'effetto secondario di una imposizione è che poi io non ti posso addebitare le conseguenze di quello che è stato oggetto di un adempimento. Quindi, se continuare a finanziare quello che ha costruito l'albergo, aggrava il danno, non pensiamo poi di immaginare l'applicazione dei principi della concessione abusiva di credito, perché il credito non l'ho concesso io, me l'hai fatto dare tu. Dopodiché, se io penso alle ragioni per le quali questo effetto impositivo si può produrre, che sono? Sono state concesse le misure protettive, ergo a coloro che sono stati interessati dalle misure protettive si produce l'effetto della necessaria continuazione dei contratti, allora il presupposto che sta alla base della concessione di misure protettive è uguale a quello che sta alla base della concessione della prededuzione. E allora la valutazione è identica e devo immaginare che il Tribunale che conceda misure protettive, avendo la consapevolezza che questo produce l'obbligo di continuare i contratti di finanziamento in corso, che produce passività, abbia anche la consapevolezza che quelle passività sono prededucibili. Quanto giovi ciò a mantenere l'equilibrio finanziario di un'impresa? Io non lo so, ma faccio l'avvocato non faccio il commercialista. Uguali complimenti devo fare che si è occupato del procedimento unitario, perché a me pare che il procedimento unitario sinceramente sia una cosa impresentabile. Impresentabile perché le cose nuove sono benvenute, se vengono fatte bene. A me andrebbe bene un'automobile che vada a energia solare, però mi devono dire che cosa succede se per due settimane piove, perché se non me lo dicono non vi va bene l'automobile a energia solare. Vi faccio soltanto un esempio. Nell'ambito del procedimento unitario, l'articolo 46 dice che dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, anche esserci l'articolo 44, cioè in bianco, si producono certi effetti. Ma quando io deposito una domanda in bianco non la battezzo concordato preventivo per produrre questi effetti, o devo battezzarla come concordato preventivo, così si producono questi effetti. Ma se poi cambio idea? Potendo fare non un concordato preventivo ma un accordo omologato, questi effetti cadono? Perché non è vero che? Fra questi effetti c'è la prededuzione. Come pensate che qualcuno possa finanziare uno strumento di regolazione che si battezza concordato preventivo, che produce gli effetti della prededuzione ma che poi potrebbero cadere se in realtà non si fa un concordato ma si fa un'altra cosa. Non si finanzia così fallisce. Detto questo, chiudo e verifichiamo se è contattato o contattabile il primo dei relatori di questo pomeriggio. Anticipo soltanto che il titolo del nostro intervento riguasta questo genere di argomenti è il concordato semplificato. Mi è stata trasmessa una domanda che riguarda il concordato minore, che è una cosa diversa e che io sottopongo ai colleghi ma non sono obbligati a rispondere. La domanda riguarda la circostanza se quella disposizione secondo la quale lo faccio, perché è giusto rispondere alle domande che vengono attribuite anche se magari in una sede non pertinente. La disposizione del concordato minore che dice che il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fidiossori del debiettore obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto, vuol dire che si può prevedere che in realtà gli effetti si estendano anche ai fidiossori e ai coobbligati. La mia idea, la mia opinione, ma vorrei sentire i colleghi sarebbe in senso positivo perché penso che i fidiossori potrebbero essere richiesti di apportare qualche cosa al concordato minore così poi l'effetto liberatorio si produrrebbe anche nei loro confronti. Se mai la domanda che io mi faccio è salvo che sia diversamento previsto dove? Direi nella proposta di concordato minore o anche nel contratto che io faccio come banca quando faccio un credito di firma dove dico al cliente stai attento che se tu dovesi fare un concordato minore deve estendere l'effetto liberatorio anche a me. Sarei portato a pensare di no ma sicuramente qualcuno ci penserà.